Buon funghetti, mi sono Ammino e ben ritrovati qua nella nuova UHC della 1.14. In questo nuovo UHC sono insieme al signor Bisunto. Siamo io e lui contro tutti questi altri mostri della UHC, ragazzi. Gente affamata, assetata di sangue, che vuole la nostra vita, la nostra anima. Sarà difficilissimo, ragazzi? Vinceremo a colpi di farm e di pesca? Io credo di sì. Siamo pronti. Benvenuti nella RAID UHC! Adesso bisogna fare la seconda intro. Tipo è bella, popolo di YouTube. Benvenuti in questo nuovissimo video sul secondo canale. Oggi siamo nel secondo episodio di questa RAID UHC, dove tutti quanti stanno prendendo danno, eccetto Ender Nico e Suri, perché si stanno giocando il ruolo di fantastici uomini Iron Man, perché i uomini di ferro sono belli. Premendo L possiamo vedere che i miei obiettivi fanno altamente schifo, però ho fatto Sanpei. Non ho ancora ucciso nessuna persona. Red Stone! Ok, così mi va bene. Hai dimenticato una persona. Cioè, ridendo e scherzando, anche Mignuzzo. Ah, giusto. E siamo qui insieme... Ah, aspetta, ma c'era anche Mignuzzo che era fornita. E poi stavi dicendo, stavi dicendo, poi stavi dicendo... E che siamo qui in compagnia di Minogilda. La persona con più asma nel penitore. Hai rotto il piccone? Eh, sì. Vado a farlo un altro. Pensavo fosse qualcun altro per quello che mi è venuto pericolo. Questo episodio, se non l'avete visto, abbiamo trovato due barilli e mezzo, perché l'altro mezzo è perché l'abbiamo perso. Eh, vabbè, vabbè. Succede, succede. Gabuzzo, mi raccomando, non leftare quando stai giocando per l'Iron Man, altrimenti gli advancement si buggano. E lui è uscito dopo. Perfetto. Fai la crafting table, fai la crafting table. Ho bisunto, fai la crafting table. Ho trovato la qua. Vieni, vieni. La crafting table per te. E un po' di legno per te. Ok. Ti do anche. Yeah. Crafting table, ho fatto la crafting table. Oro. Wow. Sì. E andiamo. E andiamo, ragazzi. A differenza dell'ultimo. UHC, abbiamo l'oro, ma non abbiamo le mele. Questo è male, e questo è male. La cosa bella è che si cuoce in automatico. Siamo a 5. La cosa brutta è che non ci sono gli advancement, per esempio, per quando si va nel nether, roba del genere. Quindi non sappiamo, proprio non possiamo sapere se gli altri hanno già avanti, per esempio, del genere. Comunque la cosa che si cuoce da solo è... Mamma mia, ma porca. Cosa? La paura, stavo per cadere nella lava. Stavo per cadere nella lava. Server lagga, server lagga, server lagga, lagga da morire. Server lagga, e non solo a te. È perché non becchiamo l'XP dalla cottura degli oggetti, perché ovviamente stiamo cuocendo col piccone, quindi non danno XP. Eh, ma puoi cuocere però il cibo. Il cibo ti dà... Sì? Quello sì, io l'ho buttato. Male, l'ho ripreso io. Ah, bene. Ecco cos'è che bisogna fare. Il cibo. Il cibo. Scudo. Ah, giusto, è vero. È vero. Perché me lo dimentico sempre? Perché me lo dimentico sempre, lo scudo? Tiene la recipe, quindi me lo dimentico. Oddio, com'è che si fa lo scudo? Non mi ricordo più. Ho già fatto la... Cos'era? La balestra? Che però non spara frecce. Bene. Benissimo. Sento un po' di scheletri, eh. Di scheletri e di ragni. Io mi sono fatto sia lo scudo che anche una cosa fantastica che adesso ti mostro. Io sto continuando a trovare carbone e redstone, eh. Tu sei? Sono qua. Sono più avanti dove c'è la lava. Se riscendi, dove hai risalito? No. Wow! 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 Inutile. Ma cosa inutile? È bellissimo. Nella UHC è inutile. Però potremo vincere con questa, ragazzi. Attenzione. Cosa? Piazzandole, spaventando gli avversari? Esatto, tipo... Oppure potremmo craftare dei campfire e piazzarli tutti quanti per terra. Così le persone vanno sui campfire e muoiono. Lo facciamo? Facciamo tipo tre o quattro stack di campfire. Va bene, va bene, va bene. Non so se... Vai, vai, tattica, tattica. Ma penso di sì. Ternico prende il danno! Ah! No, ragazzi, scusa. Ora... Aspetta, aspetta. Su, Rive. Prendi danno. Così vince. Minuzzo. Io quasi quasi vado in superficie, che adesso è il ventesimo minuto, quindi è il giorno. E mi diverto un po'. Facciamo una trappola con i campfire in qualche modo. Sì, 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 quella si fa, ma si fa tranquillamente. Allora, io continuo a scavare, provo a vedere se trovo altri diamanti. Io invece vado su a cercare le casse, che magari sono cadute durante la notte e noi non le abbiamo sentite perché eravamo troppo in basso. Ah, non uccidere i pipistrelli. Perché? Perché l'algoritmo per far spawnare le casse brutta i pipistrelli. Quindi più pipistrelli ci sono, più c'è la possibilità di spawnare un barile. Ma davvero? Non lascia stare. So come è stato fatto il codice, quindi so questa cosa. Se mai nei video vedrai qualcuno che uccide il pipistrello, puoi insultarlo a morte. Voi avete perso l'occasione di prendere un barile. Farm di pipistrelli, ragazzi. Mega farm di pipistrelli. Si potrebbe anche fare. Il problema è che servirebbe un perimetro. Eccolo qua, trovata. Trovata, infatti ho sentito, ho sentito anch'io. Ho sentito anch'io il rumore. Fortuna, ero appena... Proprio di fianco a me praticamente. Vai, vai, sì, sì! No, voglio vedere anch'io, voglio vedere anch'io cosa c'era. Dico io, dai, ti dico. Affidati delle mie parole. Oh, che fortuna non è caduta su un cactus, altrimenti si troppa. Tanti lapis, pozioni di speed e piume. Ok. Oh, c'è qualcuno! Come c'è qualcuno? No, eh? Tanto bees, eh? Ok, niente. Scampata, scampata. Oh, che piccolo è il mondo. Ho già contratto tre persone e giro i dieci minuti. No, allora è davvero davvero piccolo il mondo. Cioè... Sono, mi pare, duemila blocchi. Però... Si giro... Fondi, veramente. I prossimi otto minuti li passo intorno. Magari dopo ci ritroviamo in un punto comune, però... No, arrivo anch'io, arrivo anch'io. Spero di trovare qualche barrel che nessuno ha scoperto perché era in miniera specie. Comunque, secondo me, si fa prima a trovare le chest che... Per i diamanti, dico, eh? Che a scavare. Che secondo me... Sì, assolutamente, quello sì. Secondo me sì. No, perché se non l'abbiamo già trovati è meglio non... Non cercarli più. Perché sto vedendo che sto scavando ancora e non ho trovato ancora niente. Quindi non so quanto convenga continuare. Canne da zucchero, pelle... Ancora ferro... Oh! Pepem! GG! Bisu? Sì? Eh, 2.6? Io sto andando verso il centro, al momento, piano piano, nel deserto... Allora, aspetta, mi sto arrivando. Sono a centro. Sono a meno 500-300. Per terra, un barile. Ok, devo andare a dritto di qua. Perfetto. Eh, devo stare un attimo attento perché non so chi posso incontrare. Quindi... Allora, di là però ho lasciato tutto, eh? Tipo cobblestone, queste cose quante. Vabbè, tranquillo, non è un problema. Io ho un po' di cobblestone, si riesce. Per fare altro. Quanto sta laggando? Tantissimo. Io sono allo spawn e quindi fortunatamente non lagga così tanto. Lagga tanto. Eh, sto arrivando. Te, però hai preso... Sei andato con... No, ok, non c'è il mare. No, perché non mi stava laggando, mi stava laggando e non mi caricava. Ok. Però, aspetta. Prendo un po' di legna. Eccoti, sei te. Io spero... Spero tu sia te. Sì, sì, ciao. Ok. Ok, ci siamo. Ci siamo rincontrati, meno male. Può essere un barile da qualche parte, però non l'ho visto. Siamo sicuri che non è tipo sopra il... Già controllato. Ok, niente. Sopra una casa? Beh, però non l'ho visto. Qua da tanto, premio... Piore si si droppa, hai preso le torce quando... Cioè, quando la sabbia cade sulle torce. Beh, ci muoviamo, andiamo da un'altra parte? Tanto qua ho saccheggiato due. Ok, hai trovato qualcosa? Sì, ho trovato un barile. Un cuore d'oro! No, le mele d'oro! Allora, ho trovato due mele, una campana che mi posso... Puoi piazzare qua e suonare divertendoti. E vai. Ciao, villager, cos'è che mi offre? Serve un po' d'oro, perché sennò non ci si fa. Io ho cinque d'oro. Allora, dammi, 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 dammi. Sai quanto ne hai? Eh, c'è un cinque, anzi no, fatti te una mela. Eh, vediamo se riesco a prendere entrambe... Ma la mangio subito, tanto non riesco a recuperare nemmeno tutta la vita. Allora, visto questo punto, ti do il resto a te, così almeno ti può. Un cuore d'oro, mamma mia, sono una persona gentilissima. Hai per caso della flinta? No, purtroppo no. Ok, riesci a dropparmi gli stick che ti avevo dato? Un paio? Non tutto. Grazie. Ma si sta facendo di nuovo notte? Sì, quasi. Eh sì. No, aspetta, fra un minuto e un più. Eh, poco, poco, quindi io direi di andare... Ho sentito un rumore? Sperava l'arco che si caricava. Hai per caso caricato la balestra? No, non ho balestra. Ah, giusto. Facciamo la balestra per finire l'episodio. Abbiamo ancora dieci secondi. Vai, vai, vai. Allora, ci facciamo il tripwire che si fa in questo modo. Ne faccio una anche per te, se non si sa come si fa. Ah no, servono le stringhe, non ho niente. No, servono le stringhe. Ma dove l'hanno trovata? L'hanno trovata la lana. Lo facciamo nel prossimo episodio, iniziamo con quella? Sì, vai, iniziamo con quella. Quindi, ciao a tutti ragazzi. Alla prossima. Bye, bye. Woohoo! Outro Grazie per la visione!